Siamo assistendo a quella che è una naturale evoluzione del prodotto unit linked da come lo conosciamo il prodotto finanziario assicurativo a quello che attraverso un gioco di parole prende anche il nome di prodotto assicurativo finanziario, almeno come ci piace definirlo all'interno della nostra azienda. Un prodotto in cui la componente del rischio demografico assume una preponderanza, una rilevanza sempre crescente per uno strumento che ovviamente è dedito principalmente a quelli che è la pianificazione patrimoniale successoria dei nostri clienti. Definizione e concetto più che altro che permette anche di rinvigorire quella che è la funzione previdenziale dei contratti assicurativi a vita. Questo nuovo concetto prodotto assicurativo finanziario ovviamente deve essere declinato in quelle che sono le due componenti che caratterizzano il prodotto unit linked, la componente assicurativa è quella finanziaria per l'appunto e che permette in un certo qual modo attraverso un mix di strumenti, di presidi e di attività messi in piedi dall'assicuratore di in un certo qual modo rispondere effettivamente a quelle che sono le esigenze di protezione della clientela private. Lombard ha fatto già tanto nel corso degli ultimi 3-4 anni per offrire ai propri clienti tutta una serie di coperture di rischio demografico abbastanza corpose e importanti. Possiamo ricordare, si va da quelle che sono le cosiddette coperture del capitale che riescono a preservare il capitale pagato dai nostri clienti, dai vostri clienti, ma anche degli strumenti che permettono, anche delle coperture che permettano di robustire la stessa componente, che non è più parametrata al valore di polizze e quindi a quello che sono le fluttuazioni dei mercati, ma che siano parametrati, che comportino, che permettano di corrispondere a quello che è un ammontare prefissato di coperture di rischio demografico. Fino ad arrivare invece a delle vere e proprie coperture, anche innovative, che permettono anche di un'ottimizzazione fiscale. Immaginiamo il contraente assicurato di nazionalità e residenza tedesca, dove le imposte di successione sono abbastanza elevate, e i beneficiari residenti in Italia. Una copertura di rischio demografico, considerata le lungaggini delle procedure successorie, può permettere, anzi, di poter far fronte a quelle che sono la liquidità imminente e necessaria per i beneficiari, per far fronte a quelli che possono essere debiti, che ovviamente sono insiti nell'asse ereditario, ma anche per cercare di far fronte anche al pagamento delle stesse imposte di successione. Questo concetto della polizza di puro rischio, anche a vita intera, introduce un nuovo concetto, il concetto del prodotto che finanzia l'assicurazione, sempre con un gioco di parole del prodotto finanziario assicurativo, ma in questo caso un prodotto che finanzia l'assicurazione, cioè utilizzare quella che è la parte del capitale, la parte investita, per coprire quelli che possono essere i costi della stessa assicurazione. Quindi come si può vedere, un processo di naturale evoluzione dal prodotto finanziario assicurativo, che noi conosciamo tutti, che mantiene comunque sempre quelli che sono i suoi benefici fiscali, la sua validità, quale strumento di ottimizzazione, o meglio di strumento di pianificazione patrimoniale e successoria. Fino ad arrivare a quello che è il prodotto assicurativo finanziario, quello ci ha dato poc'anzi, coperture assicurative sempre più importanti, una preponderanza della componente assicurativa, che sia in grado appunto di permettere quella che è un'ottimizzazione dello strumento polizza, quale strumento di pianificazione patrimoniale e successoria. Fino ad arrivare a questo nuovo strumento che finanzia l'assicurazione e che appunto sia in grado di corrispondere a degli ammontari abbastanza elevati, con tutti i benefici ovviamente che possono derivarne, ai nostri clienti.